Buonasera cari amici di Teleclusone, siamo ancora in onda con una nuova puntata di Noi e voi e siamo tornati in Alta Val Seriana in un comune piccolo ma molto grazioso che ha molto da raccontare che è Premolo. Con me questa sera c'è il sindaco Omar Seghezzi che ringrazio per la disponibilità e comincerei proprio chiedendo al sindaco che è a metà del secondo mandato quindi insomma in piena operatività di presentarci il comune di Premolo. Quanti abitanti siete, che caratteristiche ha insomma perché dovremmo venire a Premolo? Premolo è un paese a oggi di 1.078 abitanti, paese di circa 18 chilometri quadrati che va ad un'altitudine di 550 metri fino ai 2.500 metri della cima della Rera che è a confine appunto con i comuni di Ardesio di oltre il Colle di Oneta. È un paese quindi fondamentalmente montano dove non ci sono industrie, c'è qualche piccola attività commerciale. Grazioso sicuramente come diceva dove i villeggianti vengono volentieri e dove sono ovviamente di parte dove si vive sicuramente bene, dove i ritmi sono sicuramente tranquilli ma il territorio propone veramente tante attrattive che meritano di essere visitate e vediamo appunto soprattutto anche negli ultimi anni che la visita e la frequentazione da parte dei turisti è molto frequentato appunto a livello turistico. Ecco andremo poi durante la puntata a scoprire tante curiosità riguardo a Premolo ma l'obiettivo della nostra trasmissione è anche di dare la voce ai cittadini. Come sappiamo i cittadini di montagna tendono ad essere sempre un po' arresti però andrei subito con il primo contributo di Diego che è stato a Premolo e sentiamo insomma cosa hanno da dirci. Buongiorno Jessica, buongiorno a tu ospite in studio. Ovviamente siamo a Premolo una giornata baciata dal sole, uno spettacolo davvero autunnale unico nel suo genere perché ovviamente Premolo ha tanto ha tanto di bello, ha tanto da offrire, è un paese molto turistico anche a livello appunto di camminate, di passeggiate tanta cultura ma questo lo lasciamo dire a chi Premolo lo vive tutto l'anno. No dai! Tu è venuto! No dai, la prego, non troviamo nessuno che ti parla. Ma sì, dai, ce ne sono. Guarda, è bravissima. Cosa c'è di bello a Premolo signora? Tutto c'è. No davvero che cosa? Si fermi! Non ti chiedere. E tu? Tu? Ma no, non lo so cosa c'è. Quanto c'è di bello a Premolo? Eccoci qua nel nuovo parco. Sindaco, facciamo davvero fatica a trovare qualcuno che ci parla. Jessica, non lo so, provo a chiedere qualcosa io al sindaco. Sappiamo e ci ricordiamo bene che Premolo è anche il paese dei burlapom, appunto perché c'erano questi coltivatori, c'è ancora qualcuno, ahimè, sono sempre di meno. Però ecco, sindaco, magari recuperare un po' questa tradizione? Allora, sindaco, sono contenta che abbiano fatto vedere anche il parco di Premolo, perché posso dire che mio figlio di tutti i parchi della Valseriana vuole sempre andare a Premolo. Quindi complimenti per questo lavoro. Piccolo, piccolo, ma funzionale. Piccolo, ma funzionale. Ecco, partiamo dal vostro soprannome che è appunto Burlapom. Che tradizione ci racconta questo soprannome? Allora, Burlapom sembra derivare appunto dall'abbondanza in antichità in particolare di coltivazioni comunque della presenza di meleti sul territorio di Premolo. Quindi su tutto il territorio, nelle cascine, ad esempio anche nella mia cascina c'è un antico albero di mele che credo cambia un centinaio d'anni, comunque faceva parte comunque della cultura e della sussistenza, diciamola tutta, del nostro territorio. Quindi Burlapom sembra che venga appunto da questa grande abbondanza di mele e queste mele che rotolavano, quindi cadevano e rotolavano talmente tante che ce ne fossero. Insomma, l'origine sembrerebbe questa. La domanda che è arrivata la colgo, c'è chi svolge questa attività? Ci sono comunque dei meleti o comunque come dicevo che ne so chi ha ancora la cascina ha ancora questi meleti o l'albero di mele? Ovviamente negli scorsi decenni è una coltivazione che è andata un po' a perdersi, però quanto è rimasto e alcune persone comunque continuano con questa coltivazione. È sicuramente un bello spunto e speriamo di riuscire a incentivare questa forma di coltivazione. Ricorderei tra l'altro che c'è un'associazione sul territorio che tanto ha fatto negli anni scorsi, poi è arrivata la pandemia, quindi si è un po' fermato tutto. Ci sarà anche a breve insomma un importante evento e appunto ricordo negli stati scorsi queste feste legate insomma all'associazione dei Burlapum che è giusto citare perché come tutte le altre associazioni sul territorio si spendono tanto. Assolutamente. Purtroppo la pandemia ha fermato, rallentato ampiamente come in tutte le nostre realtà, in tutti i nostri paesi l'attività di queste associazioni, ma ovviamente per obblighi diciamo così normativi. La Libera Associazione dei Burlapum è un'associazione che da tanti anni opera sul nostro territorio, valorizza le tradizioni del nostro territorio e supporta anche, oltre che valorizzare appunto il nostro paese, e supporta tante iniziative. Mi viene in mente forse la più significativa, tra le tante che comunque svolge, è quella del Burlapum d'Oro, quindi il premio per chi si donna con gioia. Come abbiamo detto questi due anni le attività delle associazioni si sono ovviamente un po' fermate, anche prima dell'estate, comunque anche in attesa degli sviluppi, non si sapeva ancora del Green Pass, piuttosto che però le associazioni, ma ero d'accordo con loro assolutamente, ci siamo trovati nei nostri incontri periodici e hanno preferito non procedere con delle manifestazioni, ovviamente che sarebbero state anche improponibili, ad esempio quella dei Burlapum, vista la moltitudine di persone che partecipavano solitamente. L'auspicio è di riuscire a partire dall'anno prossimo ancora con tutte le iniziative delle tante associazioni del Comune di Premolo e a breve ci sarà una sorpresa che sicuramente dovrà essere meritatamente pubblicizzata dall'Associazione dei Burlapum, un'iniziativa loro per riconoscere, diciamo così, una forma particolare di Burlapum d'Oro, non voglio anticipare di più, comunque in collaborazione poi con l'amministrazione comunale e con la parrocchia, riconoscere l'opera fondamentale del volontariato soprattutto in questi due anni che in effetti ci hanno segnato tutti per tanti motivi, chi più chi meno, e anche nelle magari piccole cose come possono sembrare le manifestazioni delle associazioni, ma la coesione sociale anche di un paese, di una piccola comunità, queste iniziative sono sicuramente fondamentali. Piano piano si torna alla normalità, lo diciamo piano, però insomma è fondamentale. Speriamo, con l'aiuto di tutti, ovviamente serve fondamentale e speriamo davvero per l'anno prossimo di riuscire a tornare a una normale normalità. Assolutamente, ritorniamo da Diego perché è qualcosa da qualcuno deve aver tirato fuori, vediamo insomma cosa hanno detto i primolesi. Signora, buongiorno, la possiamo disturbare? Almeno lei ci dica di sì per favore. Tutti che si condivano. Cosa c'è di bello a Premolo, signora? C'è tutto, c'è il sole, che è la gara di altre bande. Cosa manca invece? Non saprei, saprei, manca un po' i negozi, c'è un alimentare, c'è il panificio, però dopo è mia tata. Tradizioni, sapori, ci ricordiamo le mele, stanno venendo un po' a mancare anche quelle, c'è ancora? Ci sono, ci sono quelli. Ma la tradizione è ancora viva, secondo lei? No, è iniziata da qualche anno adesso, prima era sparita, però insomma... È una tradizione che costrandistingue il paese? Sì, sì, certo, burla pom. Manca poco le festività natalizie, ci ricordiamo bene il preseppio vivente, forse sarebbe bello da rispolverare? Sono morti le persone che si davano da fare, allora non c'è più. Facciamo questo appello che ci sarà anche il sindaco a Teleclusone, il preseppio vivente, era così bello? Era bello, sì, l'aveva visto lei. Sì, sì, assolutamente. Era bello, sì. Dopo, vabbè... E poi, vabbè, ricordiamo il Don Seghezzi. Don Antonio Seghezzi, madre gesvina, per quello, dopo abbiamo il prete giovane, quei ragazzi ci sa fare, ecco. Eh, va bene. Signora è stata gentilissima, è l'unica che ci ha risposto finora, eh? Ma non posso agitare, magari viene a che risponde. Grazie, grazie di cuore, buona giornata, la prego, la prego, si fermi, non troviamo nessuno che ci parla di Premolo. No, ma io sono di Premolo, ma... No, no, è bravissima. È un passaggio. Vabbè, cosa c'è di bello a Premolo? Tante cose. Per esempio? Tante cose, il paesaggio e tutto il resto. Si vive bene qua a Premolo? Si vive proprio bene. Se c'è una cosa che vorrebbe e che non c'è a Premolo, cosa manca? Per quanto riguarda... per come sono io non manca niente, perché se ho bisogno di qualcosa mi posso spostare per il resto. Qualcosa da migliorare? Da migliorare c'è sempre qualcosa, però... Cara Jessica, caro sindaco, qua a Premolo abbiamo cercato di intervistare parecchie persone. Ci sono scappate, magari hanno un po' paura, timore delle telecamere. Chi lo sa, ovviamente è difficile a volte che la gente si ferma, ha sempre paura magari di raccontare la sua. Però ecco, ci teniamo a dire che comunque Premolo è un bellissimo paese, c'è molta storia, appunto un paese natale di Don Seghezzi, ma non solo. C'è il verde, il verde che lo fa da padrone salendo per il Monte Belloro. Insomma, Premolo è un paese sicuramente da vivere e che magari a volte è anche un po' sottovalutato. Allora sindaco, uno spunto lo cogliamo e lo tratto quasi sempre con tutti gli amministratori, che è quello dei negozi di vicinato, che in verità ha toccato tutti i comuni, anche quelli più grandi della bassa valle. Come va a Premolo? Immagino che come amministrazione vi siate anche spesi per aiutare, soprattutto in questo paio d'anni. e poi ovviamente la grande distribuzione la fa da padrone, quindi quello è un po' inevitabile, immagino. Assolutamente sì. Comunque, pur essendo una piccola realtà, c'è da dire che i negozi li abbiamo per, diciamo così, i beni essenziali. C'è un negozio di alimentari, c'è il panificio barra alimentari, diciamo così. C'è l'edicola, che fa anche da merceria, articoli per la casa, cancelleria, insomma. Ci sono due negozi di parrucchiera, un bar e la farmacia. Oltre al Grand Bike Hostel, che è appunto una struttura ricettiva più incentrata sul turismo ciclistico, cicloturistico. Ma non solo... Punto di riferimento per le e-bike, ho scoperto. Assolutamente sì. Quindi insomma un fior all'occhiello. Oltre che i bed and break, che ci sono sul territorio. Quindi pur essendo una piccola realtà, e non è bello fare paragoni con altri paesi, ci mancherebbe. Però vediamo magari anche paesi equiparabili al nostro, che magari hanno anche meno. È difficile, è difficile capiamo per le attività commerciali rimanere aperti su un paese piccolo. Causa in particolare la grande distribuzione. Poi la gente per lavoro si sposta, quindi anche occasione di recarsi appunto nei supermercati, dove c'è più scelta piuttosto che... Come amministrazione già da qualche anno non è premessa, non che un negozio resta aperto per il supporto che magari può dargli il comune. Però, come segno di vicinanza e di supporto comunque alle nostre attività commerciali, già da qualche anno abbiamo iniziato a dare questi bandi, insomma, per il supporto alle attività commerciali, incrementato anche negli ultimi due anni, anche per il discorso Covid. Quindi, fondi Covid arrivati dallo Stato, piuttosto che i bandi a cui partecipiamo con il distretto del commercio dell'Aste del Serio, a cui Primo lo fa parte. E siamo riusciti in effetti, in questi anni, a dare un supporto, calcolando le dimensioni del paese, anche importante. Ad esempio, quest'anno siamo usciti con un bando per negozi di vicinato, partite IVA, attività imprenditoriali presenti sul territorio. Può sembrare poco, però, per circa 26 mila euro di contributi per queste attività. Bando finanziato, diciamo così, dal distretto del commercio, con fondi del 2020, fondi Covid, hanno stati erogati alla fine dell'anno, quindi siamo riusciti a fare il bando inizio del 2021. E siamo usciti, è in corso ora, un altro bando, sempre per i commercianti, di 17 rotti mila euro. Quindi, aggiungendosi agli altri, sicuramente sono importanti. Ovviamente, non per questi 45 rotti mila euro un'attività commerciale sta aperta, però, sicuramente importante. Magari ne parliamo anche dopo sulle detrazioni dell'Atari che siamo riusciti a fare quest'anno, alle attività commerciali che hanno subito la chiusura a causa del lockdown. Siamo riusciti a fare una detrazione del 75% sull'Atari, sicuramente è una cifra importante, mentre per le altre attività commerciali che non hanno subito la chiusura, comunque una detrazione del 50%, che va ad aggiungersi ai contributi che abbiamo dato quest'anno e anche gli anni scorsi. Quindi, nel nostro piccolo, sicuramente i servizi li abbiamo, ovvio, si cerca di dare una mano come amministrazione, senz'altro. Ovvio, le amministrazioni riportano anche un po' di fiducia in quello che è amministrare la politica locale. Magari vediamo la politica, diciamo, non so, regionale e nazionale molto lontana, invece i sindaci che si spendono, così come gli assessori, insomma, i consiglieri, fanno tornare un po' di fiducia. Tra l'altro, possiamo dare noi una notizia ai cittadini premolesi? Sono tra quelli che pagano meno tasse, non so, com'è che possiamo dirlo? Beh, si può dire, i dati poi sono pubblici, per carità. Non è, come dicevo, anche prima non è bello fare confronti, sembra chi è più bravo, chi non è meno bravo, e non è questo sicuramente lo scopo. Comunque, a livello provinciale, sicuramente, siamo fare comuni, dove le aliquote, in particolare dell'addizionale comunale IRPEF, che poi mai nessuno ci bada quella, perché va direttamente in busta paga, però allo 0,3 per mille è veramente tra le più basse della provincia e invariate in tutti questi anni. Ma così anche come l'Imo, dove l'aliquota massima per le seconde case è dello 0,9 per mille, poi per tutte le varie categorie e sottocategorie, e sono assolutamente inferiore poi alle aliquote anche lì. Però, in effetti, sono tra le aliquote veramente più basse. È sempre stato un nostro obiettivo, anche nel programma elettorale, sinceramente, a meno che non ci siano stravolgimenti assolutamente per spese, chiamiamole così, impreviste e inderogabili, la nostra intenzione è quella di mantenere queste aliquote, che sono, ripeto così, da anni, anzi, sei anni fa avevamo anche abrogato la Tasi, che è un'aggiunta dell'Imo, mettiamola, tra virgolette così, e avevamo abrogato anche questa, che, ad esempio, solo questa abolizione della Tasi comportava, se non ricordo male, circa un 45 mila euro di introito in meno per il comune. Può sembrare poco per un comune come il Premolo, 45 mila euro fanno comodo, però era sempre stato il nostro obiettivo e la nostra intenzione di continuare è di continuare così. Ed è giusto dirlo, perché tanto impegno e tanto sforzo va premiato, ed è giusto che i cittadini lo sappiano. Allora, credo che ci sia comunque un altro blocco di interviste, vediamo. Possiamo rubarle un minuto. Ci aiutate, dobbiamo fare una trasmissione, una domanda, signor. Cosa c'è di bello a Premolo? Mi dica solo cosa c'è di bello. Cosa c'è di Premolo? Sono di Catania. Una cosa positiva, oltre ovviamente al bello ambiente, è comunque che a Premolo i servizi ci sono. Le poste, la farmacia, il piccolo mercato settimanale, la scuola materna. Insomma, non è proprio un paese abbandonato a se stesso. Sindaco, qual è, magari, secondo lei, una cosa che manca? Glielo chiedo a lei, visto che non riusciamo a intervistare nessuno. Allora, Sindaco, volevo rincurarla, perché comunque nei piccoli comuni le persone spesso sfuggono alle videocamere. Poi, ecco, Diego è sempre un po' così invasivo, ma è una cosa, insomma, a cui siamo abituati. Prendiamo però lo spunto che ci ha dato Diego e parliamo del presente e del futuro, perché le amministrazioni non si fermano mai, quindi sono arrivati tanti fondi. In che cosa ne investirete? Allora, quest'anno è stato sicuramente un anno impegnativo nel reperimento di fondi, perché le idee sono tante, il programma elettorale, ne parliamo sempre, però ovviamente senza i fondi e, come diciamo prima, con la tassazione ai cittadini, diciamo così, tra le più basse comunque della provincia di Bergamo, è fondamentale riuscire ad accedere a bandi, finanziamenti, contributi a fondo perduto. E quest'anno è stato un anno impegnativo, ma facevo due calcoli prima, così a mente, perché abbiamo preso due appunti, su quanto siamo riusciti a portare a casa, diciamo così. E fondamentalmente per opere pubbliche, contributi a fondo perduto, poi c'è la nostra mare quota di cofinanziamento, quindi ovviamente i lavori ammontano la somma superiore, di circa 800 mila euro. E sono contributi importanti per una piccola realtà, per tante opere, magari ci guardo così, non rischiamo di dimenticare qualcosa, dalla viabilità agrosilvopastorale, alle strade di montagna, il fotovoltaico, ecco tutti i bandi regionali, dei vari ministeri statali, comunità montana, il GAL, insomma i vari enti sovracomunali da cui si possono reperire questi finanziamenti. Le pozze di abbeverata, un contributo per i lavori sul cimitero, le baite, quindi il cascinetto dei Rinati e il Gain in particolare, il reticolo idrico minore, strade, asfaltature, ancora per la viabilità agrosilvopastorale. Per le caldaie, proprio notizia di ieri, abbiamo ricevuto un contributo fondo perduto da Regione Lombardia di 36 mila euro per la sostituzione al caldaio del palazzo comunale e della scuola primaria di Premolo, quindi anche questo è un contributo sicuramente importante. Poi i contributi statali e regionali per la sicurezza stradale sono fondi per 130 mila euro, ecco già con questi siamo arrivati a 800 mila euro, euro più euro meno. Lavori che fondamentalmente, a parte qualcosa adesso sulla strada del consiglio pastorale di Belloro, non sono partiti, uno perché eravamo in attesa delle varie autorizzazioni che sono indispensabili, che ne so, della sovrintendenza, del parco, della comunità montana, piuttosto che, e anche perché alcune tipologie di lavoro, avendo avuto i finanziamenti da poco, faccio un esempio, non vado a asfaltare le strade adesso, non è assolutamente il caso, quindi questi, ad esempio, 130 mila euro di cui dicevo per la sicurezza stradale, e tanti di questi vanno sulle asfaltature, sicuramente li faremo nella primavera prossima, dove già sappiamo di poter accedere a almeno 50 mila euro ancora di finanziamenti per il nostro comune, oltre a quelli che dicevo prima su sicurezza strade del Ministero, che sono 98 mila, quindi fondamentalmente con queste risorse andremo a riasfaltare tutto il paese, oltre che al Guarrail, oltre che a mettere in sicurezza effettivamente l'incrocio del cimitero, dei giardini pubblici, insomma tutta una serie di lavori. Altri lavori che avevamo già finanziato, visto il periodo che tutti sappiamo, con aumento spropositato dei costi delle materie prime, difficoltà anche reperire le ditte che svolgono i lavori, magari bandi, dove partecipano, non partecipano ditte perché sono oberati di lavoro, un periodo 110% sicuramente influisce, oltre che comunque la disponibilità delle materie prime, su questo abbiamo comunque già dei lavori pronti, finanziati, appaltati, eccetera, e anche questi verosimilmente verranno realizzati in primavera, ad esempio l'antico sentiero dei minatori, quindi scale di Vallacqua, questa zona qui veramente molto carina e interessante, il tetto e le facciate del palazzo comunale, che di questo ne stiamo parlando da un po', però viste le problematiche che dicevo adesso verranno realizzati ovviamente nella primavera prossima, e ad esempio la strada anche di Golla in montagna verrà realizzata la prossima primavera, abbiamo finito quest'estate invece, che erano ancora contributi a fondo perduto dal PSR, i lavori alle varie baite, alle strade di accesso agli alpeggi, che erano lavori per 200 mila euro, con 138 mila euro di finanziamento a fondo perduto, abbiamo terminato, poi qualcuno ci chiede come mai è ancora chiuso, i lavori di ristrutturazione del centro sportivo di via Giovanni Prescillore, quello contiguo alle scuole elementari, su questo, visto che abbiamo ricevuto un finanziamento a fondo perduto dal Ministero dello Sport, Sport e Salute, come si chiama adesso per essere precisi, siamo in attesa del via libera del Ministero per l'apertura, per il collaudo, dobbiamo fare ancora un paio di lavoretti, ma veramente quelli saranno velocissimi, appena avremo lo che è del Ministero potremo aprirlo, e quindi sarà molto funzionale. Quindi questi sono i finanziamenti, diciamo così, per investimenti che abbiamo ricevuto quest'anno, e diciamo così in parte corrente, quindi non per investimento vero proprio, prima ne avevo accennato sul discorso dei contributi fondi per il supporto delle attività commerciali, ma questi insieme a tanti altri bandi alla fine che abbiamo vinto o contributi che abbiamo vinto, ad esempio per il supporto alle famiglie, per il supporto agli studenti, per la DAD, piuttosto che ad esempio su questo è in corso un bando che chiuderà il 30 di novembre, saranno 18 mila euro, quindi 150 euro a studente massimo, per ogni studente di ogni classe, di ogni ordine grado, quindi dalla primaria fino all'università, per quanti lo scorso anno scolastico hanno svolto anche l'attività in DAD, e non solo comunque, alla fine sarà un contributo per ogni studente, i bandi per il supporto, i bandi per i buoni alimentari, i bandi per le utenze affitti per chi è in difficoltà dovuta al periodo Covid. Il bando è stato insieme, dove tramite questo abbiamo ricevuto da Regione Lombardia un contributo di 36.440 euro, se non ricordo male, siamo riusciti a fare una marea veramente di attività come amministrazione, in collaborazione con la parrocchia, con le associazioni, per tutti i nostri ragazzi, non sono ancora terminate, ovviamente il periodo estivo è stato il più denso di iniziative, ma siamo riusciti a supportare, e sicuramente sono state iniziative importanti, perché anche per i ragazzi, per tanti ragazzi, mi confronto anche con i colleghi, anche in altre realtà, per qualcuno non è stato facile superare questo momento, quindi risocializzare, stare ancora insieme, e quindi sicuramente è stato un buon supporto. Comunque, ecco questo, insieme ai bandi per commercianti, le detrazioni di cui abbiamo già parlato, abbiamo ricevuto tramite questi bandi, contributi per 132.500 euro, che sono stati poi, appunto, sono stati, o sono in corso di erogazione, alla fine a tutte le varie categorie dei nostri cittadini, tutti ne siamo rimasti interessati. Poi questo con risorse proprie, le nostre, siamo riusciti a dare dei contributi, anche quest'anno anzi ne abbiamo aumentati, per le attività della scuola dell'infanzia, quindi 15.000 euro di contributo per la scuola dell'infanzia, per i supporti, perché i bambini sono sempre meno, quindi per una scuola, anche se parificata, è sempre più difficile riuscire ad andare avanti, e i contributi per il trasporto degli studenti, sia della prima, seconda superiore, che delle nostre scuole medie, le borse di studio, l'acquisto dei libri per la prima media, insomma, tutta una serie di iniziative a supporto di tutti i cittadini e di tutte le famiglie. Ecco, come abbiamo detto, le amministrazioni non si fermano mai e ne abbiamo avuto la riprova. È impossibile fermarsi. Prima di chiudere, dobbiamo però necessariamente citare due aspetti per andare a Premolo. La sentieristica, abbiamo capito che la montagna, c'è l'imbarazzo della scelta, quindi immagino che ci si possa rivolgere i vari siti CAI, eccetera, eccetera, con sentieri anche fattibili da tutti, giusto? Assolutamente fattibili, sia per le escursioni a piedi, che come diciamo prima, anche con i bike, sicuramente molto ambiti, abbiamo visto veramente anche una crescita importante dei turisti, non solo italiani, ma anche stranieri, soprattutto quest'estate. Quindi questo aspetto vi deve incuriosire, poi non possiamo non citare Don Antonio Seghezzi, la cripta e tutte le iniziative che fate a favore di questa figura, che insomma ha reso celebre Premolo, possiamo dire, nel mondo, ed è doveroso citarlo, perché tante persone poi vengono a Premolo anche per questa figura. Assolutamente, dopo un periodo peggiore della pandemia, abbiamo visto comunque i pellegrinaggi sono ricominciati e continuano in maniera importante, quindi questo è anche segno appunto dell'importanza della figura, oltre che per noi, che è ovvia, l'importanza che diamo Don Antonio Seghezzi, ma veramente, come diceva anche l'Eccellenza Monsignor Breschi, quest'estate, al luogo della speranza, alla messa che è stata celebrata in occasione dell'anniversario della nascita di Don Antonio, veramente la figura di Don Antonio è importante non solo per noi, non solo per la nostra diocesi, ma un esempio, è un esempio veramente importante e proprio oggi, è un caso, mi fa questa domanda, stavo sorridendo per quello, ho inviato Monsignor Tironi dalla documentazione che avevano trovato in archivio comunale su Don Antonio Seghezzi, che infatti mi aveva chiesto se l'avessimo avuto a disposizione di inviargliela e speriamo che l'iter, che adesso appunto Don Antonio Seghezzi è stato ufficialmente disegnato insomma come venerabile, adesso manca il passo del riconoscimento di un miracolo per Don Antonio Seghezzi e quindi speriamo che l'iter possa continuare perché sarebbe appunto segno della enorme devozione che vediamo nei suoi confronti. Ecco, quindi abbiamo capito che anche un comune piccolo come Premolo ha tanto da regalare, è un po' per tutti i gusti, abbiamo detto sapori, tradizioni, montagna, cultura, fede, non ci resta che insomma andare a fare un giro a Premolo. Quindi io ringrazio il sindaco per il suo tempo, buon lavoro, perché vi aspettano dei mesi belli e impegnativi e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.